Nell'emergenza post-sisma fu usato come palazzo di giustizia. Nell'emergenza Covid è stato trasformato in centro vaccinale extra-ospedale. È il nuovo punto di somministrazione dei vaccini a Bazzano, che coprirà la zona est, che è stato inaugurato questa mattina alla presenza dei vertici della ASD del Comune. La struttura affianca quella di Via Ficara, in zona ovest, e servirà a potenziare e velocizzare la campagna di vaccinazione. I lavori sono stati eseguiti in una settimana. Ci sono otto linee di somministrazione, ambulatori, sale attrezzate per il contact center. Per entrare a pieno regime servirà ancora qualche giorno e soprattutto va incrementato il personale vaccinatore. E se arriveranno i vaccini, perché quello è il nodo principale, l'auspicio è di fare una media di 600 dosi al giorno. I vaccini ci saranno, noi ce lo auguriamo vivamente. Le indicazioni che provengono anche a livello centrale sono che dovrebbe essere aumentato la disponibilità di vaccini e quindi noi stiamo facendo tutto quello che è necessario per non farci trovare impreparati. Quindi potenziare linee attività, ma soprattutto darne una distribuzione capillare su tutta la provincia. Il piano vaccini, come si sa, per l'Abruzzo prevede 116 punti in totale. A parte IAB in ospedale, la linea è quella di usare sempre più i centri extra ospedale, come Bazzano e Via Ficara. Per quel che riguarda le disponibilità di vaccini, oggi sono arrivati nuovi quantitativi di Pfizer e anche ieri nuove dosi a disposizione dei centri di Via Ficara e Bazzano. Dopo le proteste per i ritardi nella giornata di ieri, l'ASDA ha spiegato che c'è stato un disguido nelle consegne, cose che possono accadere quando si lavora a questi ritmi in emergenza, con i sanitari che davvero stanno mettendo in campo il massimo dell'impegno. Un centro che ci permetterà di aumentare quelle che sono le capacità vaccinali. Siamo arrivati su tutta l'Alza già a 1.700, oggi 1.760 vaccinazioni in un giorno solamente. Praticamente con questa nuova struttura potremo nel breve, insieme ad altre, arrivare anche a 3.000 vaccinazioni al giorno. L'obiettivo era 2.500-3.000, sono convinto che ci si arriverà nel brevissimo tempo. Noi attendiamo il Via Libera da parte della regione Abruzzo, sappiamo che già ci sono state le prenotazioni sulla piattaforma regionale. Non appena ci verrà dato il Via Libera noi partiremo immediatamente, perché siamo in grado di vaccinare contemporaneamente più categorie. Saranno categorie anche che ci permetteranno una maggiore velocità, perché man mano che l'età andrà a scendere potremo velocizzare e utilizzare anche altre categorie di vaccini che a breve ci verranno consegnate.